A proposito di sostegno all'economia, anche il G20 ha detto che non bisogna interrompere le misure di sostegno all'economia, ad esempio Marchionne ha richiesto gli incentivi all'auto che devono continuare, ci sarà una riedizione? Ecco, ce la siamo pagata 5 volte la Fiat, 5 volte. Non mi pare proprio che la direzione del governo vada all'interno di questo tipo di sostegno, o comunque anche se c'è, non è che è stato fatto in verità perché è servito anche per movimentare il mercato, per riprendere anche risorse finanziarie interessanti, perché poi sono ritornati questi sostegni anche sotto forma di entrate dell'IVA, quindi mi pare che da questo punto di vista è stato già dato, invece il tema principale è il sostegno al capitale umano, a ragione Bortolussi quando dice che noi abbiamo una grande forza, che è il capitale umano che abbiamo nelle nostre imprese, ma direi anche nel nostro tessuto sociale generale, che ovviamente deve essere sostenuto. Su questo penso che le grandi sfide dei prossimi anni devono realizzarsi, perché noi abbiamo questa grande forza che è la nostra intelligenza, la nostra laboriosità, che deve essere sempre più accentuata, non scoraggiata. E poi il secondo elemento è il fatto, e ritorno al discorso macro-sociale, macro-economico, che le cose non è che proprio vadano male, perché se il 56,6% della popolazione italiana, mi riferisco in questo caso ai dati statistici interpretati quasi in maniera dogmatica poco fa, e se il 56,6% degli italiani mostra un ottimismo che sicuramente non c'era nei mesi precedenti, negli anni precedenti, ed è la statistica più alta, è evidente che il dato percepito è di ben altro tipo, cioè che le iniziative prese che questo governo sta andando avanti nella direzione giusta. Esempio, in maniera molto concreta. È vero che qualcuno dice che bisogna rafforzare i salari, che bisogna portare avanti delle logiche un certo tipo, questo lo sostengo, ma la scelta del governo non è stata quella di stare alla finestra e basta. La finanziaria che sostanzialmente non dà saldi negativi, che per la prima volta, grazie al lavoro fatto l'anno scorso, riesce a immaginare non più un assalto alla diligenza, ma finalmente conti chiari e lineari, va all'interno di questa logica. Noi non possiamo immaginare le singole iniziative dall'oggi al domani. Prima dobbiamo vedere l'imbalcatura complessiva. L'imbalcatura complessiva è stata fatta in maniera straordinaria. Niente più assalto alla diligenza perché la diligenza non c'è più. Programmazione complessiva perché questa è stata fatta. E tutto questo all'interno non di un bisogno di un governo, ma perché è stato fatto capire, e in questo diamo atto all'opposizione che ogni tanto è d'accordo, che c'era un'impostazione di bilancio complessivo che doveva essere rifatta. Oggi abbiamo un nuovo bilancio, votato al Senato in maniera bipartisan, che ci dice che finalmente le grandezze devono essere quelle che l'Unione Europea ci stabilisce, le grandezze parlo esterne, che le grandezze interne sono quelle che vengono dai patti di stabilità, e che soprattutto, questo è il dato importante che mi rivolgo a te, cara Linda, ma che soprattutto noi abbiamo l'esigenza di andare a costruire un percorso fatto di riforme che però siano trasparenti. La finanziaria prima che cosa era? Era un modo per mettere dentro norme e quindi non c'era trasparenza. Poco fa lei diceva... Invece è talmente... Oggi invece è essenziale, certo, assolutamente, è essenziale, e poi ci sono sei decreti, perché questo dice quello che è successo nell'ultimo anno, sei tra leggi, tra le segne legge e decreti, che ci hanno detto cosa fare concretamente su sei settori importanti. Era una valutazione di Giannino su questa prima finanziaria leggera della storia della Repubblica, zero tagli, zero tasse, cioè né tagli, né incrementi della spesa pubblica, né tasse, né nuovi sgravi fiscali. Bene? Senta, mi faccia spiegare perché io sono esploso in quella risata quando lei ha detto... Sugli incentivi alla FIAS. No, all'ex strategy continuiamo con le politiche di sostegno alla domanda, eccetera, infatti Marchionne ha chiesto, no, perché per evitare di sembrare maleducato, però sono esploso in una risata perché, mi lasci dire, Gazzettino due giorni fa, la giornata di Venezia ha fatto una cosa strepitosa perché ha dato voce e per due giorni ha insistito a darla e secondo me fa bene a insistere a darla, all'amministratore delegato del gruppo COIN, il dottor Beraldo, che presentando i suoi risultati, è un gruppo che sta crescendo il fatturato di utili malgrado la crisi, ha domanda di un giornalista, ma lei pensa che si debba continuare anche per l'anno prossimo a dare gli incentivi alla FIAT, ha risposto, senta, io penso che se il governo continua a darglieli, noi qui organizzeremo lo sciopero fiscale. Io penso che il governo fa bene ad ascoltarle queste voci, perché milioni di piccoli imprenditori italiani, di fronte al fatto che la FIAT vuole comprarsi le banche indebitandosi, indebitandosi, perché è di queste settimane che vogliono comprarsi FIDEURAM da banca intesa e non ci riescono solo perché l'amministratore delegato di intesa gli è stato fatto presente che non è il caso, ma altrimenti si sarebbero accomodati, vogliono comprarsi le banche ulteriormente indebitandosi. Il dottor Marchionne ci ha appena detto a Francoforte, e io ne sono felice, che comprandosi Chrysler con la benedizione di Obama fa 5,5 milioni di unità l'anno. E quindi, allora, nel 2007 erano al massimo utile di tutta la 109 anni di storia FIAT, non stiamo dando molto alla piccola impresa italiana, anzi quasi niente, di sicuro vuol dire che non dobbiamo continuare a dare alla FIAT, ecco, cioè questa è la mia opinione. La FIAT è una grande azienda internazionalizzata a cui abbiamo dato, siamo il paese OXI con la più lunga serie di incentivi aiuti, mentre i grandi paesi hanno dato gli incentivi solo per quest'anno. Ecco, quindi questa è la mia opinione. Anche perché hanno i fondi pensione e la salute legata all'azienda. Quindi, come si vede... Comperiamo la finanziaria, o meglio, legato alla finanziaria, visto che nella presentazione della finanziaria il ministro Tremonti ha anche parlato di spesi ineludibili, il finanziamento delle missioni italiane all'estero, i fondi per l'università, la ricerca, il 5 per mille. Tremonti sta facendo esattamente quello che aveva detto all'inizio della legislatura. Lui all'inizio della legislatura ha detto, blitz, io a luglio farò i saldi per tre anni, e dopodiché a quel punto farò solo tre tabelle e tre articoli di settembre in settembre per l'aggiornamento. E poi nel corso dell'anno si vede che cosa fare di aggiornamento. A fine anno si vedrà come provvedere a queste spese, anche grazie al gettito. Andiamo al punto dello scudo fiscale, terza edizione dello scudo, approvato questa settimana, in questi giorni, al Senato. Martedì arriva alla Camera per la prossima... Scusi se posso dire a Giannino, mi scusi, però sono d'accordo sulla tecnica, solo che il problema è che è una specie di politica del carciofo, perché non è che è un quadro rappresentativo di tutti i conti, ci sono delle cose obbligatorie da mettere nei conti, tipo i contratti pubblici, che non ci sono nel bilancio, perché non hanno copertura. Quindi non è che ho fatto i saldi per tre anni, ho fatto quel che posso, poi via via vedrò come tappare i buchi. Ma infatti lei sa che questa formula ha le pecchie che lei dice, perché siamo anche nella transizione, io spero che presto venga risolta, di una riforma generale delle leggi di contabilità, proprio dello strumento. Quindi io capisco che l'opposizione dice sì, ma in questa fase transitoria è un po' il gioco delle tre carte, perché tu dai le tre tabelle, ma quello che resta fuori, e lo capisco che in Parlamento non ci si può che sentire un po' defraudati, però osservo da fuori che questo meccanismo di grande energia nel tenere in mano le redini impedisce che la stessa maggioranza, per essere chiari, oltre che l'opposizione, dia l'assalto alla dirigente. Vorrei tenere anche io in mano le redini e parlare di scudo fiscale. Prima di sentire cosa ne pensate, vi riassumo i punti principali discussi. Scudo prevede rientro dei capitali illegalmente detenuti all'estero con l'applicazione di un'aliquota del 5%, garantisce l'anonimato e l'immunità da tutta una serie di reati fiscali, societari e finanziari, tra cui il falso in bilancio, e abolisce l'obbligo di segnalazione da parte delle banche per operazioni sospette che potrebbero nascondere il riciclaggio. Questo è un punto delicato, anche il finanziamento del terrorismo. Le chiedo subito a lei, l'ansillotta, visto che questa cosa del finanziamento del terrorismo nasce da una segnalazione dei parlamentari del PD, se questo è effettivamente così, visto che il reato di riciclaggio è legato a quello del finanziamento del terrorismo, c'è questo rischio. Noi avevamo detto che un'operazione di scudo fiscale, cioè di agevolazione fiscale, di rientro di capitali illicitamente esportati, era accettabile in un quadro di regole europee. Allora, qui ci sono alcuni punti che sono in totale contrasto con quello che stanno facendo gli altri paesi. Il primo è il livello dell'aliquota, perché capisco che da noi si evade molto, quindi per essere appetibile devi abbattere l'aliquota, però c'è modo e modo, perché il 5% è molto superiore, molto superiore, arriva al 40%. Io non dico al 40%, ma il 5% è veramente un insulto a chi le tasse le paga dalla prima all'ultima lira. La seconda è l'anonimato, perché è questo che copre qualsiasi provenienza, anche la peggiore del denaro. Su questo aggiungo che nel Gran Bretagna è prevista addirittura la pubblicazione dei nomi dei contribuenti che commettono i maggiori leggi. Anche perché c'è una sanzione non solo pecuniaria, ma anche morale, nel senso che in alcuni paesi evadere le tasse è un fatto eticamente inaccettabile. Quindi c'è una sanzione anche morale da parte della popolazione.